Per noi green significa soprattutto scelte strategiche industriali, in particolare nelle rinnovabili e per noi significa soprattutto idroelettrico sia in Italia che all'estero con le acquisizioni recenti in Montenegro sia il teleriscaldamento dove siamo leader in Italia e produciamo energia e calore da impianti che utilizzano in buona parte anche i rifiuti con un livello molto interessante di autonomia energetica nelle realtà urbane. Grazie